Maxicontrollo del territorio ieri da parte dei carabinieri a Canicattin in collaborazione con i colleghi del reparto operativo di Palermo e della stazione di Racalmuto. Una ventina di uomini impegnati con una serie di posti di controllo nel centro abitato, in particolare Piazza 4 Novembre, Viale della Vittoria Rotonda di via Monsignor Ficarra, Viale Giudice Antonino Saetta e Largua Osta. Durante il servizio sono state riscontrate diverse violazioni al codice della strada, tra queste una multa ad un mezzo privo di copertura assicurativa, una contravvenzione per mancanza di revisione del mezzo, quattro multe per utilizzo alla guida del telefono cellulare, una per mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Particolare attenzione è stata posta ai conducenti e ai passeggeri dei ciclomotori all'utilizzo del casco protettivo, in particolare sei scooter sono stati sottoposti a fermo amministrativo per mancato utilizzo del casco, soprattutto nel passeggero. Un giovane è stato sorpreso infatti mentre scorazzava liberamente per le strade della città a forte velocità senza indoscare il casco e una volta riuscito a fermare lo stesso era sprovvisto anche del titolo di guida l'acquisanzione pecuniare di ben 5.000 euro. Inoltre i carabinieri hanno sensibilizzato la cittadinanza, oltre che al rispetto delle vigenti norme, anche a rispolverare senso civico e rispetto per gli altri, rifacendo spostare autovetture posteggiate caoticamente sui marciapiedi e addirittura dove vi sono gli scivoli per i diversamente abili. Le strade più sensibili come via Carlo Cattaneo, Corso Umberto I, via Tenente Colonnello La Carrubba, e purtroppo spesso non per causa di necessità di emergenza, ma anche per un semplice caffè o per acquistare le sigarette. Mentre ben più gravi i furbetti che per risparmiare poche centinaia di metri percorrono alcuni divieti d'accesso, il più utilizzato quello di via Magri, vicino all'ottica alla mattina, che da Largo Oster emette in via la regina Margherita. Anche qui le dichiarazioni a scusante sono delle più fantasiose, tra le quali Ma cosa ho fatto? A conclusione del servizio i carabinieri di Canigattia hanno controllato 50 mezzi e 60 persone identificate, levando un totale di 25 contravvenzioni per un importo totale di circa 8.000 euro. Grazie a tutti.